Le settimane di studio dell'Istituto Italo-Germanico sono un appuntamento che potremmo definire di rutina, anche se il termine è improprio. Questa è la 54esima settimana, cioè dalla sua fondazione, dal 1973, l'Istituto Italo-Germanico, che è uno dei principali centri di ricerca storica europea, ormai potrei dire, tiene una settimana di studi in cui chiama un gruppo qualificato di studiosi a confrontarsi su un argomento che riteniamo di particolare interesse e particolare significato. Questa settimana ha un taglio un po' particolare, nel senso che anziché essere come altre settimane sono state una raccolta di eminenti studiosi su un determinato tema, ma studiosi che hanno lavorato su questi temi per conto loro e che vengono poi qui, diciamo così, occasionalmente a confrontarsi, in questa settimana invece c'è una ricerca specifica che ha fatto questo istituto. Ci sono i 12 ricercatori interni di questo istituto che stanno lavorando su questo tema, che adesso esporò, loro presenteranno il risultato della loro ricerca e si confronteranno con questi illustri ospiti, con questi studiosi di vaglia sui risultati che hanno ottenuto. Il tema della settimana di quest'anno è la transizione come problema storiografico. Ovviamente tutti sappiamo che il mondo sta cambiando, diciamolo in termini banali. Il mondo sta cambiando intorno a noi, non è più quello di prima, ma non soltanto perché c'è qualche piccola differenza, ma proprio perché stiamo entrando in un mondo completamente diverso. Internet non è un modo veloce di comunicare, è un modo diverso di comunicare, le distanze si sono ridotte enormemente, paesi che una volta sembravano il margine del mondo, pensiamo alla Cina, sono diventati i paesi centrali e via dicendo. Allora, questa grande transizione, questo passaggio da un'epoca all'altra, come è stato vissuto nel passato? Che cosa ci ha portato? Che cosa ci ha detto? Ecco, noi siamo convinti che la storia possa insegnarci delle cose. Non è la prima volta che il mondo è cambiato, diciamo la cosa che sanno tutti perché l'hanno spiegato da scuola, no? Quando è stata scoperta l'America il mondo è cambiato. Ecco bene, proprio a partire più o meno da quegli anni lì, da quel cambiamento, noi ripercorriamo come è stato costruito l'uomo moderno, quest'uomo che per esempio ha lanciato il primato della ragione, il primato dell'individuo, il primato della tecnica. attraverso un lungo percorso che paradossalmente potremmo dire è oggi arrivato quasi alla fine. C'è una famosa frase di questo ciò che ti dico, Max Horkheimer, che dice la ragione quando è arrivata al suo livello massimo è diventata irrazionalità. E forse noi oggi tocchiamo con mano questo divenire irrazionalità della ragione. C'è un nutrito numero di studiosi. La settimana è coordinata accanto a me dal professor Gerhard Haupt, che è stato fino a, proprio fino ad adesso, professore dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze, adesso torna alla sua università a Bielefeld, ma c'è Christophe Dipper, c'è Alex Shield, c'è Raffaele Romanelli, c'è Paolo Macri, c'è Roberto Bizzocchi, sono tutti studiosi di grande elevatura e di grande livello. Soprattutto sono tutti studiosi, come posso dire, problematici. Cioè non sono persone che vengono qui a dirci come è veramente, ma vengono a dirci come bisogna studiare per cercare di capire che cosa sta succedendo. Cercare di capire cosa è successo in passato è sufficientemente difficile ed è metodologicamente la base per cercare di capire cosa sta succedendo oggi. La nostra settimana è ovviamente un evento pubblico, non soltanto il dibattito fra il Vescovo, il Presidente della provincia, il Presidente della cooperazione, sono destinati anche alla popolazione, ma tutti i nostri lavori sono pubblici. La settimana comincia martedì 11 nel pomeriggio, dura fino a venerdì 14 alle ore 13, l'entrata è assolutamente libera, c'è la traduzione simultanea per consentire al pubblico di lingua italiana di seguire anche gli interventi in lingua tedesca e per consentire a un pubblico di lingua tedesca di seguire anche gli interventi in lingua italiana. Quindi diciamo che dal punto di vista linguistico non ci sono assolutamente barriere. È una offerta, io credo, molto interessante, molto vantaggiosa perché in un breve arco di tempo, anche se posso dirlo così banalmente, le persone possono avere contatti e vedere da vicino studiosi notevoli di cui leggono sui giornali, di cui libri magari hanno studiato all'università o nella scuola secondaria, ma soprattutto possono sentire delle riflessioni su dei temi che credo veramente siano dei temi centrali per affrontare la crisi di questi giorni. È anche un'occasione importante perché il pubblico veda chi sono i nostri ricercatori, cosa facciamo, perché sentirà direttamente la loro voce, vedrà se posso dire anche fisicamente la loro figura. È una cosa importante, tante volte la gente ci chiede ma i soldi che la comunità investe in questa operazione saranno soldi ben spesi? Beh, venite a vedere, toccatelo con mano, vedrete per chi avete investito questo denaro e quale risultato questo denaro comporta. Lo vedrete da un duplice punto di vista, perché lo vedrete sia perché questi ricercatori si renderanno presenti e vi faranno vedere le loro ricerche, sia perché vedrete come queste ricerche vengono recepite da studiosi di altissima qualità, perché in fondo una regione è importante, perché dentro a questa regione si svolgono delle cose importanti. Il territorio trentino è ovviamente un territorio in grande trasformazione, se pensiamo a quello che è successo anche negli ultimi cento anni per non risalire troppo in là, siamo passati da una civiltà agricola a una civiltà terziaria che è stato un salto di qualità enorme e oggi molti si chiedono ma questo provoca uno sbandamento, ci sono ancora dei valori, cosa rimane in piedi di questo? Ecco, noi proprio per dimostrare che non stiamo parlando di cose raffinatissime ma che interessano solo degli studiosi, abbiamo pensato di organizzare all'attere di questa settimana un dibattito pubblico fra tre personalità che sono indubbiamente al centro di questo cambiamento del trentino. Abbiamo invitato il Vescovo di Trento, Monsignor Luigi Bressan, perché indubbiamente la religione cattolica è stata una delle componenti fondamentali fino a non molto tempo fa di questa identità trentina, ma naturalmente non solo trentina, abbiamo pensato di invitare il presidente della provincia Lorenzo Dell'Ai perché di nuovo l'autonomia è stata un'altra, ed è ancora per tanti versi un'altra delle grandi caratteristiche per la gestione di quella che è stata la transizione passata e ci si chiede se lo sarà per la transizione futura, abbiamo invitato il presidente della cooperazione trentina Diego Schelfi perché di nuovo la cooperazione è stato un modo attraverso cui, mi si consenta di dirlo, la povera gente, come avrebbe detto Lapira, ha affrontato il problema di come difendersi rispetto all'avvento di quella che era la società industriale capitalistica. Ecco, allora anche qui oggi chiedersi ci sono dei modi attraverso i quali l'economia può rilanciarsi nell'interesse della gente. Questa tavola rotonda è immaginata proprio per questo, ragionare su questa grande transizione non dal punto di vista di quelli che si stracciano le vesti, come erano belli i tempi passati, che disastro oggi, no, ma come dire, come possiamo rimboccarci le maniche per fare di questa transizione un momento fortemente propositivo e fortemente attivo. Allora, l'Istituto Italo Germanico è una realtà abbastanza complessa e di nuovo è una realtà in evoluzione come tutte le realtà. In questo momento noi abbiamo una composizione che vede 12 ricercatori che sono a tutti gli effetti parte con rapporti di lavoro di tipo diverso all'interno, parte dell'Istituto Italo Germanico diciamo direttamente. Abbiamo in questo momento altri due ricercatori che invece sono due ricercatori che sono qui con un finanziamento della provincia di Trento su dei loro progetti specifici, ma che naturalmente noi abbiamo, diciamo così, incluso nelle nostre forze e poi abbiamo alcune ricerche specifiche sulla base della quale diamo dei piccoli contratti di lavoro, sono delle ricerche o di tipo archivistico o di tipo storico. La ricerca principale sulla quale noi siamo impegnati, perché il tentativo è quello di far sì che un istituto storico-umanistico funzioni come quelli delle scienze cosiddette dure, cioè dove un echipo intera lavora su un solo tema. Prevalentemente la tradizione umanistica italiana è invece quella di uno, massimo due o tre ricercatori che fanno la loro ricerca personale e hanno dei rapporti che fa di loro per modo di dire. Invece noi qui abbiamo questa grande ricerca, la transizione, che va dall'età della riforma e della controriforma e della scoperta dell'America fino agli anni 70 del Novecento e ciascuno di questi ricercatori lavora su un tema di questo tipo. I due ricercatori della provincia che hanno questi finanziamenti particolari lavorano invece su due progetti molto specifici, che per certi versi rientrano in quello generale, ma sono loro. Uno lavora sul problema dell'ufficio zone di confine, che fu la struttura creata dal governo italiano nell'immediato secondo dopoguerra per la gestione dei problemi del confine del Brennero, del Sud Tirolo e del confine orientale, il problema con la Jugoslavia. L'altra ricercatrice invece lavora su un tema molto interessante, ma squisitamente specialistico, che è il problema di come un grande editore svizzero tedesco, Frebel, trasformò Erasmo da Rotterdam in un vero e autentico successo letterario per l'epoca, attraverso l'invenzione della stampa. Accanto a questo abbiamo alcune ricerche specifiche finanziate, abbiamo due ricerche finanziate dalla Fondazione Caritro, una riguarda il problema delle Alpi fra Medioevo e Primissima Età Moderna, che viene gestito in collaborazione con l'Università di Chioto. Abbiamo una seconda ricerca che sta arrivando alla fine, faremo a fine 2012 un convegno su questo, che è il peso della storia nella ricostruzione di alcuni paesi europei dopo il 1945, l'Italia, l'Austria, la Germania e la Francia. Abbiamo alcune ricerche archivistiche, i libri copiali, alcuni atti, gli atti trentini economici. Abbiamo una ricerca finanziata dal BIM per l'edizione delle opere dei discorsi politici di Enrico Conci, che è stato questo molto importante deputato Trentino al Parlamento austriaco negli anni prima del 1918. Questa forma una comunità di ricercatori che lavora su questo. Poi noi accanto a questo cerchiamo di fare anche del lavoro, diciamo così, al servizio del territorio. Noi vogliamo essere, come si dice, un giacimento culturale. Abbiamo tante piccole pietre preziose all'interno, le mettiamo a disposizione della comunità. Abbiamo fatto, per esempio, un accordo con l'Università di Trento e di Verona, perché nel nuovo corso di laurea specialistica in storia che queste università promuovono, i loro studenti possano utilizzare dei laboratori all'interno del nostro istituto, gestiti dai nostri ricercatori. Ci rendiamo disponibili quando ci chiedono per corsi di aggiornamento per gli insegnanti, per conferenze pubbliche, per attività di altro genere, proprio perché siamo convinti che un grande ricercatore o un piccolo ricercatore non deve essere una persona che lavora in un attore d'avorio, deve essere uno che lavora in mezzo alla sua gente. Chi non lavora in mezzo alla propria gente è un cattivo storico, perché in realtà fa storia sui libri, perde il contatto con la vita. Grazie a tutti.